E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Presentato il volume che, come era nei programmi dei promotori, Fondazione Monti di Pietà e Confartigianato di Vicenza, chiude la collana di pubblicazioni memorialistiche sulla Grande Guerra. Si intitola Il Fonte Veneto della Grande Guerra, cento anni, cento immagini, il nono volume della collana storica promossa da Fondazione Monti di Pietà e Confartigianato di Vicenza. Un libro fotografico e non solo, curato dagli storici Paolo Pozzato e Mauro Passarin e impreziosito dalla presentazione di Mario Isninghi, storico e presidente dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Vi sono raccolte le foto, sapientemente restaurate dal grafico Graziano Ramina, che fanno parte della mostra allestita dal Consiglio regionale del Veneto in Palazzo Ferrofini a Venezia, visitabile fino al 6 maggio e poi destinata ad essere itinerante. Esse, come hanno spiegato gli storici, mostrano il dramma dei profughi, oltre 30.000 solo dall'altopiano di Asiago, montagne celebrate per la loro bellezza, sfigurate da un'imponente architettura di guerra e trasformate in un immenso cimitero a cielo aperto, con due terzi dei 150.000 caduti sul fronte di montagna, morti non a causa delle armi, 40.000 per il freddo e gli stenti, 60.000 sotto valanghe e frane. Il libro chiude la collana di pubblicazioni che raccolgono memorie non di fonti ufficiali, ma di chi conobbe la vita di trincea e della gente comune. Un'opera voluta per non dimenticare, perché, come ha osservato il presidente di Confartigianato Agostino Bonomo, la pace venga sempre percepita e vissuta come un dono inestimabile, un valore irrinunciabile. Un'idea nata, ha ricordato Mario Nicoli, presidente della Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, nel 2006, in occasione della riconsegna alla città della balconata di Piazzale della Vittoria, restaurata grazie alla stessa fondazione, all'Associazione degli Artigiani e al Consorzio Carve. E se, a soli nove anni di distanza, oggi si riparla della necessità di un nuovo intervento di restauro della balaustra, danneggiata non tanto dagli agenti atmosferici, quanto da incuria e vandalismi, viene proprio da dire che è assai utile e meritoria quest'opera di salvaguardia della memoria, promossa dai due organismi vicentini. La soddisfazione poi è stata che il Consiglio regionale già da un paio d'anni ci aveva dato la loro amicizia per quello che stavamo facendo e hanno desiderato, e noi abbiamo accolto ben volentieri l'invito, a mettere a disposizione loro quello che stavamo preparando. Quello che stavamo preparando era questo libro fotografico ed è nata la mostra fotografica Palazzo Ferrofini a Venezia. Io credo che quando abbiamo cominciato otto anni fa mai avremmo pensato di avere una così ampia visibilità con il nono volume. Sapevamo che arrivavamo a ridosso del centenario e delle celebrazioni del centenario, però avere la possibilità di esporre tutto questo materiale fotografico di grandissimo valore nell'atrio di Palazzo Ferrofini questo veramente non lo pensavamo. Questo fa anche da cassa di risonanza e di amplificazione di questa nostra iniziativa e questo ci rende assolutamente felici. Il volume è ora disponibile nelle librerie.